Centinaia di studenti a Sebastopoli festeggiano il terzo anniversario della riunificazione della Crimea con la Russia, formando una gigantesca bandiera umana con i colori della Federazione Russa. Per Maria Zaharova, portavoce del Ministro degli Esteri Russo, il tempo ha dimostrato la legittimità della decisione del popolo di Crimea di riunificarsi con la Russia. La ragionevolezza della realizzazione del diritto all'autodeterminazione del popolo di Crimea per Maria Zaharova è oggi altamente visibile, in quanto giustificato dalla vergognosa e sanguinaria lotta che il regime di Kiev ha intrapreso contro il proprio popolo. Nel frattempo, ieri, 16 marzo 2017, il Parlamento europeo ha ribadito ancora una volta la sua condanna per quella che viene definita l'annessione della penisola di Crimea da parte della Russia e ha deplorato le violazioni della libertà di parola, l'abuso dei mezzi di comunicazione, l'imposizione forzata della cittadinanza russa e le politiche discriminatorie imposte in particolar modo contro la minoranza etnica Tatera. La risoluzione è stata approvata dagli eurodeputati in seduta plenaria. Nel testo, gli eurodeputati invitano a cessare immediatamente le pratiche di persecuzione. Il Cremlino ha chiuso ancora una volta la porta a qualsiasi possibilità di un accordo con gli Stati Uniti su un nuovo referendum in Crimea, in cambio della revoca delle sanzioni. È fuori discussione, ha dichiarato la TASS, il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha annunciato che Kiev adotterà delle sanzioni contro cinque importanti banche russe che operano sul mercato ucraino, a cominciare da Sbirbank. La decisione arriva dopo una settimana di proteste dei militanti dei gruppi nazionalisti ucraini. Lunedì i militanti del battaglione Azov e della Guardia Nazionale dell'Ucraina avevano murato con blocchi di cemento l'ingresso della filiale di Sbirbank a Kiev, bloccandone le attività. Morte le banche russe è stato scritto in rosso sulla serranda di un'altra filiale. Il principale istituto bancario russo controllato dal Cremlino aveva annunciato di essere disponibile a fornire i propri servizi finanziari ai cittadini delle repubbliche di Donetsk e di Lugansk, i cui documenti emessi dalle autorità separatiste sono riconosciuti come validi nella federazione russa dallo scorso 18 febbraio. Sulla scia delle proteste le autorità ucraine hanno deciso di forzare la mano, ancora una volta, dando il via libera a misure restrittive per un anno, che includono il divieto di apporto di capitali dall'esterno dell'Ucraina, il divieto di pagamenti di dividendi e di interessi, la restituzione di depositi e prestiti interbancari. Il Ministero degli Esteri di Kiev ha informato l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America della decisione. Per Mosca però le misure introdotte da Kiev sarebbero in contrasto con il diritto internazionale. Ed il Cremlino si è detto preoccupato per la tendenza ad un ulteriore degrado e all'aumento delle tensioni in Ucraina. Grazie. Elisabetta II ha dato l'assenso reale. Ora Theresa May potrà iniziare negoziati per Brexit. Gli altri 27 membri dell'Unione Europea dovranno pubblicare una lista di tematiche su cui dibattere in un summit previsto in maggio. Fra le priorità il conto finale che il Regno Unito dovrà pagare all'Unione Europea per la sua uscita, stabilito da Bruxelles sui 60 miliardi di sterline. Intanto, mentre il Ministro per Brexit David Davis ammette di non avere un piano B in caso di fallimento degli accordi, Theresa May blocca nervosamente un secondo referendum sull'indipendenza scozzese. Nicola Sturgeon parla di mossa antidemocratica. Theresa May risponde di lavorare per l'interesse dell'intero paese e che un referendum in Scozia in tempi brevi non sarebbe giusto per il popolo scozzese, che per una decisione così cruciale non avrebbe la necessaria informazione. Per alcuni il suo rifiuto avrebbe consegnato l'indipendenza alla Scozia su un piatto d'argento. La Banca di Russia ha inaugurato il primo ufficio di rappresentanza in Cina, con una cerimonia tenutasi presso l'ambasciata russa di Pechino. Presenti entrambi i vice governatori delle banche centrali dei due paesi, d'accordo nell'affermare che la cooperazione economica e commerciale tra le due potenze, sta attraversando un momento storico. L'apertura dell'ufficio di rappresentanza aiuterà a proteggere gli interessi degli istituti finanziari russi che si trovano sul mercato cinese e renderà certamente il mercato russo più attraente per gli investitori cinesi. Confusione tra le fila dell'esercito americano di stanze in Siria. Citato dal New York Times, un portavoce del comando centrale americano John Thomas ha riferito «Non abbiamo colpito alcuna moschea. Quello che dovevamo colpire è stato distrutto. C'è una moschea a 15 metri dall'edificio obiettivo del raid ed è ancora in piedi». Thomas ha tuttavia precisato che è stata avviata un'indagine per determinare se qualche civile si è rimasto ucciso o ferito nel raid che aveva come obiettivo una riunione di militanti di Al-Qaeda nella provincia di Drib. In precedenza il collega Andy Stevens, anche egli portavoce del comando centrale americano in Siria, aveva confermato all'agenzia di stampa Sputnik International un attacco aereo nella zona di Idlib. Secondo l'Osservatorio per i diritti umani sarebbero stati i cacci americani a bombardare la moschea, provocando la morte di 42 persone, fedeli riuniti per le preghiere della sera. Per l'Idlib Press Center le vittime sarebbero in realtà almeno 50 e alcune immagini di corpi vicino alla moschea sono state postate online. Nel frattempo l'esercito siriano ha abbattuto uno dei quattro aerei dell'aviazione israeliana penetrati nella notte nello spazio aereo della Repubblica Araba. Gli israeliani avevano attaccato obiettivi dell'esercito siriano nella regione di Palmira. Le forze di difesa israeliane, per ora, negano l'abbattimento del velivolo. Sul fronte delle trattative per la pace, invece, i rappresentanti russi stanno pianificando un incontro con i rappresentanti dell'opposizione armata siriana nella capitale turca a Ankara. Lo ha reso noto una fonte diplomatica aggiungendo che tutto ciò potrebbe avvenire prima che abbia luogo l'incontro di Teheran tra esperti russi, turchi e iraniani fissato a metà aprile. Nel terzo round dei colloqui di Astana avvenuto in questi giorni si è discusso dello scambio di prigionieri, dell'istituzione di una commissione costituzionale e di una bozza di proposta alle Nazioni Unite per sminare Palmira. Altri documenti riguardano la separazione dei terroristi dai gruppi armati e questioni umanitarie. Torna la calma nelle strade di Tripoli, dopo la firma del cessato al fuoco fra le forze del governo di Al-Sarai, sostenuto dalle Nazioni Unite, ed i capi delle milizie armate legate all'ex premier Khalifa Guay, che dovranno lasciare la città entro 30 giorni. Gli scontri, che hanno portato a tre morti e diversi feriti, erano iniziati lunedì 13 per il controllo di una banca nel quartiere di Al-Andalus. L'esercito ha ripreso il controllo dell'hotel Rixos, quartier generale del governo nazionale non riconosciuto di Guayle, che il 12 gennaio aveva ritentato di prendere il potere. Tuttavia le tensioni sembrano non cessare. Stando al Libya Herald, il cessato al fuoco è stato rigettato dalle Brigate Rivoluzionari di Tripoli di Haithem Tagiuri e bollato come mezze misure ed accordi formali che non rappresentano il volere dei comuni cittadini libici. In Lettonia, il 16 marzo, è la giornata del legionario. Il 16 marzo del 1944 fu il primo giorno in cui le due divisioni lettoni, schierate a fianco dell'esercito nazista, combatterono insieme sul fronte orientale contro l'armata rossa. Anche ieri, come negli anni passati, nella marcia che ha visto percorrere le strade di Riga dai reduci della Seconda Guerra Mondiale, hanno sfilato le divise militari naziste del 1944. Solamente una ventina le persone che in una veglia dinanzi al monumento alla libertà di Riga hanno espresso disappunto, ricordando le vittime del nazismo in Europa. Iakov Plinier, co-presidente del Partito per i diritti umani nella Lettonia Unita, è ancora una volta deluso. Mi vergogno di fronte alla società lettone, europea e mondiale, ha dichiarato. Possiamo guardare corammarico ad alcuni episodi della nostra storia, ma è inammissibile ogni forma di apologia del nazismo e ogni tentativo di riscrivere la storia.